Un anno di lavori suddivisi in quattro lotti. Il cantiere per la riqualificazione di Piazza Duomo oggi è stato oggetto di un sopralluogo di sindaco e vice sindaco con tecnici e con l'ingegner Penzi della ditta che si sta occupando dell'intervento alla presenza del prefetto Torraco. Il comune ha osservato la canterizzazione e ha fatto pure presente che elementi storici come lampioni e cubetti di Porfido verranno recuperati e riutilizzati per altri lavori in centro. L'appalto per la piazza è importante, 4 milioni e mezzo di euro, procederà per step. Ci sarà prima il lotto che riguarda il lato a destra scendendo, quello in cui ci troviamo adesso, dopo verrà fatto l'altro lato e poi ci concentreremo invece sulla parte centrale. Sono circa 4 milioni e mezzo di importo lavori, la durata è stimata in un anno, sui marciapiedi si interverrà invece la notte, verranno smontati e poi quando le condizioni lo consentiranno verranno rimontati. Quindi è uno degli interventi più importanti che riguarda la città dell'Aquila perché è il cuore stesso della città, con l'avvio dei lavori anche del Duomo. Si completa almeno questo pezzo di territorio e naturalmente ci sarà qualche disagio, però immediamo tutti alla comprensione, alla collaborazione perché al termine dei lavori questa sarà una delle piazze più belle d'Italia. Noi recupereremo tutto, la scelta architettonica prevede la sostituzione dei corpi illuminanti, comunque i lampioni verranno smontati, verranno verificati, naturalmente ne verrà verificata la funzionalità e l'adeguatezza alle norme correnti e le riutilizzeremo, così come riutilizzeremo tutti i cubetti di porfido negli interventi che sono programmati in giro per la città. Uno dei problemi è stato quello dei disagi per gli accessi alle attività commerciali, ci sono stati diversi confronti con il comune commercianti per cercare di limitare le difficoltà. Gli esercenti potranno comunque lavorare, la ditta ha assicurato che ci saranno turni notturni dalle 21 a mezzanotte. Il vice sindaco e il sindaco intanto stanno valutando dei ristori. Tenete conto che questi cantieri o li facevamo tutti quanti insieme, quindi dando un disagio magari un po' più grande ma per un periodo di tempo inferiore oppure si sarebbero protratti per anni e anni e anni. Abbiamo scelto di massimizzare lo sforzo per poter restituire a tutta la città una L'Aquila più bella e sicuramente siamo al lavoro insieme al sindaco per dare una risposta anche a chi ha sofferto qualche disagio piccolo grande.